Buon tour Jesus et Maria, carissimi amici e amiche, bentornati ad un nuovo puntato di questo ciclo di rechessi dedicato al mistero di Giuda che è giunto alla quinta puntata. L'interno di un dialogo tra Gesù e Giuda, terminato, l'abbiamo sospeso, al momento in cui Gesù appunto dice sono venuto per gli uomini, non per gli angeli, così comincia e conclude dicendo ho preso vera carne per poter sapere per esperienza di carne quali sono le tentazioni dell'uomo. Riprendiamo la lettura da qui, evidentemente poi, come sempre, mantenendo lo stile della sosta e del commento quando evidentemente appaiono delle circostanze che lo richiedono. Quindi, ho preso vera carne per poter sapere per esperienza di carne quali sono le tentazioni dell'uomo. E i peccati? Tentati tutti lo possono essere. Peccatori, solo chi vuole esserlo. Ecco. Facciamo subito la prima sosta dopo il secondo rigo. Allora, questa frase è una di quelle frasi chi mi conosce sa che ogni tanto uso questa espressione un po' speriamo simpatica però per evidenziare qualcosa che bisognerebbe farci uno screenshot un bel ingrandimento e poi attaccarsela sopra il letto o sul comodino o dove uno preferisce insomma, comunque in un posto dove sia frequentemente visibile tentati tentati tutti lo possono essere ma peccatori solo chi vuole esserlo non dobbiamo mai dimenticare che tutto quello che dipende tutto quello che non tutto quello che dipende tutto quello che possiamo fare di bene o di male dipende scusate solo dalla nostra volontà Sant'Affonso Maria degli Guori diceva non sono peccati gli mali pensieri ma gli mali consensi tanto per fare un esempio e questo dobbiamo tenerlo ben presente la volontà vedremo come Giuda ha un grande problema che è appunto il problema della mancanza di buona volontà che ha evidentemente inficiato profondamente tutta la sua caduta rovina Giuda chiede non hai mai peccato Gesù risposta non ho mai voluto peccare e questo non perché sono il figlio di Dio ma perché questo ha voluto e vorrò per mostrare all'uomo che il figlio dell'uomo non peccò perché non volle peccare e che l'uomo se non vuole può non peccare amici qui veramente faremo una sosta continuata questa sera perché anche questa espressione è assolutamente fondamentale io ricordo che quando studiavo la teologia diciamo che c'è un principio teologico per carità vero ma che a me insomma lascia un po' perplesso perché sembra vallare una cosa che Giuda Gesù gli risponde così perché lo vedremo sicuramente nel corso di quest'opera lo ricordo bene dalla lettura Giuda sempre opponeva a Gesù diciamo tu sei perfetto tu non pecchi quindi tu bella forza perché tu sei Dio cioè quindi di che vogliamo parlare allora il principio teologico è questo qui siccome il peccato appartiene alla persona non alla natura sentite siccome Gesù non è una persona umana ma è una persona divina perché è il figlio di Dio che ha preso una vera natura umana quindi può la persona divina del figlio di Dio peccare? no quindi Cristo è impeccabile però così l'attribuzione dell'impeccabilità viene fatta direttamente al figlio di Dio esattamente come faccio è così è finito è finito il discorso invece Gesù attribuisce il suo non peccare a un atto libero della sua volontà umana non alla persona del figlio perché altrimenti cioè i suoi atti peraltro non sarebbero stati nemmeno meritori lui ha agito quando era incarnato con una natura pienamente umana quindi con una volontà pienamente umana una forma diciamo così una variante eretica di questa visione quella di per sé è è corretta però come dire è è troppo esemplificativa non fa comprendere anche cioè dice allora che stava tentato a fare il nostro signor Gesù Cristo nel deserto che erano una finzione le tentazioni evidentemente no siamo d'accordo su questo no non era una finzione quindi amici una variante eretica è l'eresia del cosiddetto monotelismo l'eresia molto molto diffusa e molto famosa cioè in Cristo ci sono due volontà quella umana e quella divina sì ma la volontà divina è talmente più grande infinita che praticamente assorbe quella umana e fa di due una sola volontà come tutte quante l'eresia sempre va giusto no la figura di la potenza della volontà divina è ovvio che scaturisca questa ma ma no no perché i meriti con cui il nostro signore esuvisto ci ha salvato dipendono proprio dalla sua volontà umana dal fatto di essere stato l'uomo nuovo il redentore certo unito alla persona del verbo evidente l'unione ipostatica ma lui ha veramente meritato e per poter veramente meritare tu devi porre in essere un atto libero volontario e dice io l'ho fatto questo voluto e vorrò per mostrare all'uomo che il figlio dell'uomo non non peccò perché non volle peccare chiaro quindi è un atto della sua volontà umana e che l'uomo se non vuole può non peccare adesso questo è un principio fondamentalissimo ce lo dobbiamo mettere bene in testa l'ho già detto altre volte che qui abbiamo i mantra un mantra diffuso è che noi siamo peccatori carità certo che lo siamo guai a chi pensa di non esserlo ho detto l'ho dibattito di nuovo durante la pratica di oggi pomeriggio guai a chi pensa io non ho peccati in un certo senso ovviamente perché altrimenti noi diremo una bugia del padre nostro rimetti a noi i nostri debiti e diremo una bugia quando diciamo confessa a Dio onnipotente e a voi fratelli con molto peccato in pensieri parole opere domissioni giusto diremo una bugia bene ma in che senso ricordate ogni tanto spezzo un po' con qualche battutina ricordate i film del primo verdone quando era un po' meno volgare e un po' più simpatico in che senso quando alzavo il calcio facevamo a che senso a che senso noi siamo peccatori nel senso che dalla mattina alla sera come detto anche nel nome di oggi ne facciamo almeno sette al giorno perché giusto perché sette volte è scritto nel libro sapienziale ma in che senso nel senso che per quanta attenzione ci faccia ci facciamo non possiamo a causa del peccato originale da cui siamo purtroppo inficiati non pecare mai per debolezza per ignoranza per inavvertenza c'è un salmo bellissimo che dice le inavvertenze chi le discerne assolvimi dalle colpe che non vedo che sono molto più di quelle che vediamo io consiglio sempre terminata la confessione di dire sempre signore ti chiedo perdono anche di tutte le colpe che non vedo che non ricordo e mi accuso di tutti i peccati della vita passata che quanto alla confessione generale dovrei averli confessati ma confessarli tutti beato chi ci riesce ogni tanto qualcuno mi devo dire stop che fanno 3 4 5 la confessione generale perché sono dimenticato questo quest'altro quest'altro di mio figlio mio cioè la nostra memoria per quanto di sfavor mette un mese a preparare la confessione generale ma probabilmente non li dirai tutti perché non ci arrivi non te li ricordi ok come sappiamo la confessione copre i peccati dimenticati e su questo non possiamo ingannare il Signore Dio lo sa se un peccato l'ho dimenticato cioè se nella mia testa non c'è la memoria di quel peccato e quindi io non lo posso dire perché non lo vedo oppure se io lo vedo e faccio il finto tonto e non lo dico facendo finta di dimenticarmi questo Dio lo vede posso ingannare il confessore ma non Dio allora in questo senso in questo senso sì che siamo peccatori ma in senso forte no perché in senso forte il peccato spiega San Tommaso d'Aquino benissimo si trova nella volontà il peccato è peccato quando è volontario cioè quando tu sapendo che che stai sbagliando scegli di sbagliare l'esempio classico chi dice una bugia di scusa pecca in questo modo e la bugia di scusa non si dice se uno legge l'opera ogni volta che Gesù sentiva dire una bugia anche piccola dagli apostoli diceva sempre non mentire non mentire non mentire non mentire perché si può anzi si deve non mentire mai perché come Gesù qui dice il peccato volontario che è il peccato in senso stretto se si vuole si può non fare compresi tutti i peccati impuri contro il sesto comandamento che non è affatto vero che è impossibile non farli non è vero la dimostrazione lampante è che ci sono una montagna di persone credetemi che non li fanno mai mai non sono esseri strani che hanno gli occhi storti le mani che hanno cambiato che sono diventate una specie di mongoloidi se si può dire insomma questa espressione non vorrei che fosse una cosa offensiva non voglio offendere nessuno mi raccomando non succede niente non succede se una persona non vuole bestemmiare non bestemmia mai a meno che non scaviti proprio un giorno che sta fuori dalla grazia di Dio il diavolo lo pompa in maniera ma proprio scappate una disgrazia in teoria ma io dubito che in pratica se proprio una persona ha detto no perché se io dico no concependo un disgusto assoluto come si deve concepire nei confronti di questa cosa non la faccio ricordo una volta di aver sentito una discussione tra preti dove uno diceva ma non mi dire che tu hai sempre detto tutto il breviario con tutte le ore canoniche sempre e questo risponde anche a te certo tu no dire le ore del breviario è un atto assolutamente volontario ti organizzi non le puoi dire a loro prescritta San Giovanni Bosco non mi ricordo se la mattina o la sera a quei tempi che c'era il breviario romano non quello del 62 che è molto più lungo della liturgia delle ore ma rispetto a breviari antichi fa ridere le galline il breviario di una volta veramente ti faceva cioè stavi 4 ore per dirlo tutto salmi lunghissimi che non finivano mai ecco allora la sera cominciava a passeggiare su e giù e se dice tutto il breviario non può un prete andare a letto se non l'hai detto il breviario quindi non l'hai detto ti metti la strada sotto le gambe perché se me siedo ma dormo passeggi finito si fa togliamocelo dalla testa capite le giustificazioni eh eh ma come fai come come fai riceviamo la volontà ci abbiamo quindi il peccato volontario se non si se non si vuole non si fa punto Sant'Agostino lo spiegavo tante volte sintetizzava proprio in una filastroca anche questa sarebbe da impararsela la condizione differente che può avere l'uomo allora l'uomo nello stato di natura decaduta senza la redenzione quindi senza la grazia diceva Sant'Agostino non può non peccare capite è un'impossibilità assoluta cioè se tu non sei battezzato o essendo battezzato e peccato mortalmente quindi hai perso la grazia è impossibile che tu non commetta peccati mortali perché li farai al cento per cento perché senza l'aiuto tutto questo chiaramente presuppone l'aiuto della grazia di Dio ovviamente noi non siamo volontaristi per la Gianni attenzione però dice sempre Sant'Agostino proprio quello che qui sta dicendo Gesù identica espressione l'uomo giustificato può non peccare se vuole ovviamente peccare ovviamente nel senso che ho specificato ma questo lo si legge anche nella lettera di San Giovanni è posto che faccio un attimo uno rapidissimo jump chiunque è nato da Dio scrive San Giovanni non pecca ok vi dico subito il versetto preciso ecco qua ce ne sono due primo Giovanni 3.6 e primo Giovanni 3.9 quindi capite non ci credo a Maria Valtorta va bene non ci credere a Maria Valtorta per carità non c'è nessun obbligo di credere a Maria Valtorta ma a San Giovanni evangelista ci crede per forza così come a Sant'Agostino ok allora Giovanni 3.6 3.6 3.6 9 cominciamo dal 5 voi sapete che egli è apparso per togliere i peccati e che lui non vi è peccato anche qui Gesù l'ha appena specificato ovviamente ma che il nostro Signor Gesù Cristo non ci sia peccato penso che siamo tutti d'accordo che non c'è bisogno di stare troppo a spiegare e stare troppo a discutere no attenzione versetto 6 chiunque rimane in lui cioè in lui in Gesù non pecca non pecca chiunque pecca non lo ha visto né l'ha conosciuto non lo dico io eh primo Giovanni 3.6 ancora figlioli nessuno vi inganni chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto chi commette il peccato con la P maiuscola non ripeto quello che ho detto prima eh viene dal diavolo non viene da Dio perché il diavolo è peccatore fin dal principio ora il figlio dell'uomo è apparso per il suggerimento le opere del diavolo poi se non avessi capito Giovanni 3.6 facciamo 3.9 che se non l'hai capito e te lo devo spiegare eccolo 3.9 chiunque è nato da Dio non commette peccato perché è un germe divino di morellui e non può peccare perché è nato da Dio vedete non può peccare siamo impeccabili pure noi in un certo senso sì in un certo senso ovviamente no capiamoci bene nel senso specificato da Gesù se tu sei nato da Dio quindi hai la grazia santificante e unita alla buona volontà tu il peccato volontario non lo commetti la grazia di Dio unita alla buona volontà non ho peccato perché non ho voluto peccare sentite lo step successivo di Giuda questo è un dialogo veramente se ci mettiamo tre mesi a finire il capitolo fa niente perché queste sono cose a mio avviso di una importanza determinante se capite e ritenete e comprendete quanto sia grande l'importanza di queste cose magari date diffondiamole un po' ma non perché le sto dicendo a me guardate per favore credetemi di avere considerazione di avere followers o seguaci o gente che lo sanno a Don Leonardo vi prego per favore non mi interessa nulla a me interessa il bene delle anime queste cose qui sono fondamentali sono sono proprio fondamenti imprescindibili tra poco uscirà la pubblicazione ho appena mandato la bozza per la prima stampa di un testo che si chiama i principi della vita morale e le sette virtù cristiane uscirà tra poco che parla proprio di queste cose la libertà della volontà delle virtù questi concetti dobbiamo averli chiari perché non possiamo continuare a ripetere a pappagallo frasi fatte sragionate e appiccicate a bambera non si può non si deve io sono peccatore tu sei peccatore in che senso e vabbè l'altro giorno ho fatto una scappatella ma che faccio siamo peccatori ma dico ma ti date volta il cervello cioè tu usi in questo termine in questo senso la triste verità che purtroppo siamo peccatori non si usa in questo modo questa triste verità perché la scappatella i figli di Dio non la fanno eh lo so però un altro giorno mi è scavitato insomma una certa c'era il film piccantino il video un po' eh che vuoi fare siamo peccatori siamo peccatori ma anche no anche no proseguo la lettura è qui al momento abbiamo letto uno due tre quattro cinque sei sette righe in venticinque ottima media andiamo avanti così penso che il giorno del giudizio universale finiremo settecento pagine di questo libro ma andremo avanti così per sempre comunque altra domanda di Giuda sei stato mai in tentazione? dai questa è exciting questa qui è stato tentato Gesù domanda un po' retorica no? esposta ho trent'anni Giuda e non sono vissuto in una speronca su un monte ma fra gli uomini e anche fossi stato nel più solitario luogo della terra credi tu che le tentazioni non sarebbero venute? tutto abbiamo intorno a noi il bene e il male e tutto possiamo accogliere in noi e sul bene ventila il soffio di Dio e lo avviva come turibolo di graditi e sagri incensi e sul male soffia Satana e lo accende in rogo di feroce vampa ma la volontà attenta e la preghiera costante sono umida rena sulla vampa d'inferno la soffoca e doma bello anche questo qui la volontà attenta e la preghiera costante qui Gesù non sta dicendo un altro sapete che io ripeto sempre le stesse cose ma mi dispiace ma so queste le cose importanti chi prega si salva chi non prega si danna Sant'Alfonso chi prega si salva chi non prega si danna chi prega poco è in pericolo San Pio da Pietrelcino senza la preghiera non ce la possiamo fare perché volontà attenta e preghiera costante perché ci vuole la buona volontà e la vigilanza della volontà unita alla grazia di Dio la grazia di Dio il primo strumento con cui te la procuri è la preghiera pregare non è un optional pregare è un dovere noi non preghiamo perché ci piace o perché stiamo bene quando preghiamo o perché ci abbiamo avuto l'esperienza di Dio l'abbiamo sentito oggi che sto sentito tu ti metti là prendi quel rosario in mano e lo dici ma sto con la testa per aria fa niente ti lo dici lo stesso perché non lo puoi non dire perché se non lo dici perdi delle grazie se perdi delle grazie sai che succede? sì che commetti i peccati poi sai che succede se commetti un peccato grave? sì è un guaio oggi è tutto quanto a sentimento tutto così in tempi non qualche tempo fa nei famosi colloqui sacerdotali pubblici e privati mi è capitato di interloquire con qualcuno di un'apparizione mariana X guarda io ho qualche motivo di perplessità su questa apparizione ce l'ho per questo 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 e questo questa persona mi guarda e mi fa non ce l'ho mai pensato dico perché perché io ci credo è sulla base di cosa tu ci credevi fammi capire perché mi sentivo che queste apparizioni sono vere mi sentivo basta tutto qui allora io senza credire dico secondo te è sufficiente come criterio di discernimento dire mi sento che sono vere dimmelo tu non te lo dico io arrivaci da solo tu puoi mettere come criterio di discernimento di una cosa così importante cioè delle manifestazioni presunte sopranaturali e tu dici no no ma io ci credo perché perché le sento vere perché sento che è così guardate che sento o non sento è vero che c'è il senso sfidei c'erano pure i fedeli però va bene adesso attenzione all'altra domanda qua ce ne stanno una meglio dell'altra e sono domande vedete qua state attenti alle domande di Giuda perché le domande di Giuda sono le domande di molti e le obiezioni di molti dice ma senti un po' ma se non hai mai peccato come puoi giudicare i peccatori? non sai di quello che parli sapete qualche volta a me e anche i preti hanno detto dice eh ma tu come fai a parlare di rapporto tra me e mia moglie o tra me e mio marito tu che ne sai cosa c'è dietro questo discorso? siccome tu non c'hai la moglie ho detto fra me vabbè non non faccio la la glossa non ce l'ho ma intorno ai preti ci sono eh tante aspiranti platoniche a volte quindi che mettere tutte quante da parte dico forse forse non abbiamo capito no? cioè io non voglio quella reale figuriamoci se voglio quella platonica insomma comunque questo questo è un altro discorso vabbè comunque chiusa parentesi non c'è mica bisogno di aver fatto esperienza di una cosa per poterne parlare altra cosa insieme al sentimento c'è l'esperienza ho fatto questa esperienza di Dio esperienza di Dio è una contraddizione in termini o se si preferisce un'altra figura retorica uno simolo perché di Dio esperienza esperienza vuol dire una cosa che ricade sotto la sfera sensibile cioè io posso fare esperienza di qualche cosa che vedo sento tocco annuso ok ma Dio non lo sento non lo vedo non lo tocco e non l'annuso non in questa vita per cui non si può cioè quando si parla di esperienza in questo caso è un'esperienza in senso molto analogico anche qui cos'è stato emotivo interiore che è quanto di più fallace possa esistere leggete tutti i maestri di spirito tutti tutti quanti quindi se non è peccato come puoi giudicare i peccatori risposta sono uomo e sono il figlio di Dio quanto potrei ignorare quanto potrei ignorare come uomo e mal giudicare conosco e giudico come figlio di Dio e del resto Giuda rispondi a questa mia domanda uno che ha fame soffre più nel dire ora mi siedo al desco o nel dire non vi è cibo per me risposta soffre di più nel secondo caso perché solo il sapere che ne è privo gli riporta l'odore delle vivande e le viscere si torcono nella voglia ecco la tentazione è mordente come questa voglia Giuda Satana la rende più acuta esatta seducente di ogni atto compiuto inoltre l'atto soddisfatta allora nausea mentre la tentazione non cade ma come albero potato getta più robusta fronda e non hai mai ceduto non ho mai ceduto come hai potuto ho detto Gesù è padre non mi indurra in tentazione Gesù liberissimi di farsi idee proprie padre non mi indurra in tentazione capite che già qui da l'interpretazione di questa frase come tutti quanti sapete l'ira di Dio intorno a questa frase in questi in questi anni proprio San Tommaso d'Aquina aveva risolto il problema 700 5 morto nel 1274 700 anni fa abbondanti ok non permettere che la tentazione ci vinca tutto qui aiutami a non peccare questo significa non ci indurre in tentazione questo aiutaci a non cedere alla tentazione come tu messia tu che opere i miracoli hai chiesto l'aiuto del padre non solo l'aiuto dice Gesù gli ho chiesto di non indurmi in tentazione credi tu che perché io sono io possa fare a meno del padre o no in verità ti dico che tutto il padre concede al figlio ma che ma che anche tutto il figlio riceve dal padre e ti dico che tutto quanto sarà chiesto il mio nome al padre verrà concesso ma eccoci al Gezzemani dove io abito già se ne vedono i primi olivi oltre le mura tu stai oltre Tofet già scende la sera non ti conviene salire sin là ci rivedremo domani allo stesso posto addio la pace sia con te facciamo evidentemente adesso qui un altro un altro pit stop perché abbiamo letto un passo un pochino più esteso per non appesantire troppo se non è mai peccato come puoi giudicare i peccatori ecco premesso che non è possibile non è necessario aver fatto commesso un peccato per poter tra virgolando volete noi non dobbiamo giudicare perché i peccatori giudicano tanto nostro signore ma aiutare un peccatore nel caso nostro evidentemente Gesù risponde ciò che io non conosco e potrei ignorare come come uomo mal giudicare lo conosco giudico come figlio di Dio e poi gli fa una domanda per dargli come dire un una sollecitazione un insight per parlare di una cosa molto importante che è la dinamica della tentazione la dinamica della tentazione per capirla un po' è tu ti stai morendo di fame ok e pensi c'è niente da mangiare e cominci a fantasticare se ti immagini un bel piatto delle spaghetti alle vongole una bella bistecca alla fiorentina oppure partire le pardine ritte d'accordo e ti viene l'odore sotto il naso e tu dici mamma mia sto a morire di fame e non ce l'hai davanti se assecondi questo questo pensiero diventi 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 matto a un certo punto fino a quando non lo soddissi perché se ti stai a morire di fame lo devi soddisfare per forza ecco la tentazione è mordente come questa voglia cioè ti viene proprio una cosa che in psicologia si chiamerebbe compulsiva cioè ti proprio sollecita a farla questa cosa qui e non solo satana la rende più acuta esatta seducente di ogni atto compiuto non solo inoltre l'atto soddisfa e talora nausea mentre la tentazione non cade ma come albero votato getta più robusta fronte vuol dire che superata una tentazione non è finito purtroppo e non è mai ceduto no non ho mai ceduto non perché sono superman né perché sono figli di Dio ma perché qui Gesù rivela che ha pregato lui per primo con le parole del padre nostro certo c'è un problema abbastanza serio questi diversi autori se lo ponevano col rimettere a noi i nostri debiti perché Gesù evidentemente non aveva debiti però pur non avendo debiti suoi personali in quanto lui è il capo stipite dell'umanità redenta poteva tranquillamente utilizzare questa preghiera dicendo come di fatto ha fatto scusate il gioco di parole come in effetti ha fatto che cosa ha fatto lui nella passione ha preso su di sé i nostri delitti si è addossato alle nostre iniquità si è presentato davanti al padre lui innocente ma ha chiamato delle colpe di tutto il genere umano e quindi sotto certi punti di vista può dirlo forse più di tutti rimetti a noi i nostri debiti perché lui ha portato i debiti di tutti sulle spalle proprio di tutti di tutti quindi non lo può dire a titolo personale ma in quanto redentore purtroppo ne ha ben donde per dirlo perché ha portato i peccati di tutti intercedendo per i peccatori vedete Giuda come non riesce a comprendere questo il grande mistero dell'unione ipostatica unione ipostatica che però Gesù qui spiega anche in termini di relazioni intratrinitarie cioè nella Santissima Trinità padre e figlio sono interconnessi diciamo così per cerco di usare termini che che li rendano comprensibili non andare troppo nello specifico delle terminologie teologiche in senso strette che se no dopo le persone non non capirebbero più uno tutto il padre concede al figlio ma tutto il figlio riceve dal padre e da uomo da Dio lo riceve e basta ma da uomo glielo chiede e quindi tutto quello che sarà chiesto in nome mio al padre sarà concesso a Dio la pace sia con te la pace a te pure maestro ma vorrei dirti ancora un'altra cosa ti accompagnerò fino al Cedron poi tornerò indietro perché stai in quel luogo così umile ma ce n'erà altri sai la gente guarda tante cose conosci nessuno in città che abbia una bella casa io se vuoi posso portarti da amici ti ospiteranno per amicizia a me e sarebbero dimora di te più degne lo credi risponde Gesù io non lo credo il degno e l'indegno sono in tutti i ceti e senza mancare di carità ma per non offendere giustizia ti dico che l'indegno è maliziosamente indegno è solamente fra i grandi non occorre e non serve essere potenti per essere buoni o per nascondere il peccare agli occhi di Dio tutto deve capovolgersi sotto il mio segno e grande non sarà chi è potente ma chi è umile e santo capito attenzione a cosa dice Gesù senza mancare di carità ma per non offendere giustizia ti dico che l'indegno è maliziosamente indegno è solente fra i grandi senza mancare di carità che significa non ha fatto nomi per esempio però per non offendere giustizia è che ti devo dire la verità che indegni e maliziosamente indegno si trova spesso fra i grandi vedete Gesù su questo ovviamente su tutte le cose è un maestro assoluto dobbiamo fare sempre attenzione no la giustizia e la verità devono sempre coniugarsi con la carità le virtù cristiane sono tante sono belle però sono un grappolo cioè vanno tenute sempre tutte insieme non possono essere praticate alcune e altre no una persona che è un un grandigionatore e poi è un imprudente è un grandigionatore ma è anche un imprudente una persona che è troppo polarizzata che ne so sulla sola sulla sola carità fraterna potrebbe mancare e non si deve mai fare al dovere per esempio di dire la verità che peraltro è la prima forma di carità chi dice la verità potrebbe mancare alla carità nel senso di non dirla bene sbatterla in faccia in maniera violenta presuntuosa altera arrogante va bene non occorre e non serve essere potenti per essere buoni o per nascondere il peccato agli occhi di Dio grande non è chi è potente ma chi è santo e umile questi sono i grandi agli occhi di Dio attenzione adesso a quello che dice Giuda ma per essere rispettato o per imporsi uno dovrebbe essere grande no? Gesù qui interrompe perché sono i puntini è rispettato Erode? è rispettato Cesare? no sono subiti e maledetti dalle labbra e dai cuori sui buoni o anche solamente nei volonterosi di bontà credi Giuda che saprò impormi più con la modestia che con l'imponenza e anche questo deve essere uno uno stile che ci caratterizzi un po' quelli che si impongono non sono rispettati ma sono temuti invece quelli che si propongono sono rispettati e quelli che si propongono in maniera amabile sono amati Giuda ancora ribatte ma allora spregerai sempre i potenti ma te ne farai dei nemici io pensavo di parlare di te a molti che conosco e che hanno un nome vedete Giuda come film o attenzione qui si potrebbe fare una bella catechesi nella catechesi sui film qui si apre una parentesi sterminata quando le persone anche spirituali si fanno i film su se stessi sul prossimo sul prete su 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 i film si è messo si è messo in testa delle cose sta già praticamente sta già organizzando tutta quanta la vita al nostro signore Gesù Cristo è importante che ti pare qualcosa poco impegnativa io adesso voglio far conoscere questo poi quest'altro poi questo potente di qua questo fariseo questo scriba cioè nel momento che dico io nel posto che dico io allora che dico io quando lo ritengo opportuno io che pazza eh veramente un come si chiamano i quelli dei calciatori i procuratori qualcosa del genere e Gesù risponde al timore di Giuda che spregge potenti io non spreggerò nessuno Gesù non disprezza a priori nessuno andrò ai poveri come ai ricchi attenzione anche questo facciamo il quadretto Gesù va ai poveri come ai ricchi non va solo dai poveri ogni tanto ogni tanto a nomi dei poveri a chiesa dei poveri c'è andare dai poveri la chiesa preferenziale per i poveri sta scritto dove fuorché nella testa di chi lo dice certo Gesù ha detto che i ricchi che è pericoloso possedere delle ricchezze perché la ricchezza diventa una condizione potenziale di superbia di pretesa di autosufficienza questo è evidente questo qui ma non è che i ricchi sono tutti cattivi e dannati i poveri sono tutti tanti buoni e santi ma non è vero per niente questo qui non è vero perché i poveri che sono invidiosi e che guardano i ricchi e gli mandano gli accidenti e gli dice che potessi consumare tutti quei soldi in medicina non credo che siano tanto santi andrò ai poveri come ricchi agli schiavi come re ai puri come peccatori ma se sarò grato a chi darò pane e tetto alle mie fatiche quale che sia il tetto del cibo darò sempre preferenza a ciò che è umile i grandi hanno già tante gioie i poveri non hanno che la letta coscienza un amore fedele dei figli i vedersi ascoltati da più di loro io sarò a curvo sempre sui poveri gli afflitti e i peccatori io ti ringrazio per il tuo buon volere ma lasciami a questo luogo di pace e di preghiera va e Dio ti ispiri ciò che è bene adesso in questo passaggio Gesù dà anche le coordinate corrette in cui interpretare quell'attenzione che è una cosa buona verso i poveri gli umili eccetera e anche le motivazioni che la dettano è chiaro che la la povera gente ha bisogno di sentirsi considerata ascoltata proprio perché poverini non si rifiua nessuno una persona che non sta in quelle condizioni non avverte questo bisogno non avverte questa necessità quindi è giusto che si abbia come dire una rettamente intesa attenzione particolare per ok ma una strumentalizzazione ideologica di questa cosa non è conforme al dettame evangelico non si può fare di questo un mantra o una ripeto strumentalizzazione ideologica Gesù lascia il discepolo e si interna fra gli ulivi e ogni cosa finisce finisce ogni cosa in questo capitolo penso che più o meno possiamo mettere a punto anche noi aggiornarci alla prossima puntata laudentur Jesus et Maria e Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga